ciao ragazzi benvenuti ad un altro dei miei video oggi l'attore in questione è Matteo Pisseri portiere del Catania la situazione è del 4 a 0 del Catania quindi quello che succede è sicuramente ininfluente ma questo tipo di parata deve essere sottolineata perché per la voglia che Pisseri ha di rimanere inviolato anche a due secondi dalla fine in una partita che non ha più da chiedere ve la faccio subito rivedere ragazzi state ben attenti quello che contraddistingue questo tipo di intervento non è sicuramente quella che può essere una caratteristica specifica tecnica ma soprattutto la voglia di rimanere concentrato e di finire la partita inviolato questa è una caratteristica che ogni portiere deve avere perché guardate qua il movimento la concentrazione di Pisseri su ogni piccolo passetto laterale che sta facendo dello spostamento e poi la reattività è la cattiveria con la quale va a togliere questa palla dall'incrocio dei pali grandissimo qua sotto ci sono i 5 passaggi fondamentali per poter replicare questo tipo di situazione vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao